Ciao amici Osje Jagiz e Gokberk de Mirci amanti benvenuti sul mio canale, sono di nuovo davanti a voi con un nuovo video e una nuova condivisione amici. Come sapete, i preferiti di tutti e guardati con grande ammirazione le immagini dei social media di Osje Gokberk de Mirci sono diventate l'agenda con le immagini sincere dell'amore di Osje Jagiz e Gokberk de Mirci, cornici piene di amore, ha riscosso grande apprezzamento e successo. Continueremo a offrirvi le magnifiche immagini della coppia sotto forma di video come sempre. Per questo, non dimenticare di metti mi piace al nostro video e supportaci e iscriviti al nostro canale e le pose d'amore speciali per i fan di Osje Jagiz e Gokberk de Mirci sono per te. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!